Quattro nuovi mezzi antineve saranno presto nella disponibilità della Regione Abruzzo per contribuire ad affrontare al meglio la prossima stagione invernale ed evitare che il ripetersi di precipitazioni nevose di particolare intensità possa arrivare a determinare gravi conseguenze per l'incolumità delle persone. Lo ha annunciato il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso a pescare in Regione nel corso della riunione del tavolo di lavoro per la predisposizione e l'organizzazione dei piani neve provinciali per la stagione invernale 2017-2018, un incontro al quale hanno preso parte anche l'assessore al bilancio della sanità Silvio Paolucci, il sottosegretario della protezione civile Mario Mazzocca, i rappresentanti delle province e delle prefetture, dirigenti ANAS e di società strada dei parchi e i responsabili della struttura regionale di protezione civile.